Problemi nella maggioranza al Consiglio Comunale di Modugno. Le polemiche sono soprattutto sul lato di indirizzo che l'Aggiunta Nicola Magrone ha approvato pochi giorni fa e riguardano le norme tecniche del piano regolatore fermo al 1995, definite anche dalla Regione illegittime. Io mi auguro che in Consiglio Comunale si arrivi con un'unica linea. La nostra posizione, come diceva anche il comunicato su Facebook, in merito a diversi incontri che abbiamo fatto comunque in maggioranza, noi abbiamo espresso chiaramente la nostra linea. La nostra linea è quella di non intanto adottare il testo unico del 1995 perché in merito a delle nostre considerazioni questo creerebbe una situazione sicuramente instabile per Modugno. Mi dispiace tra l'altro che il Sindaco ci dica che comunque in merito anche alle carte bastava fare una piccola istanza, mi dispiace, ma non è così perché insomma c'è una conferenza di capigruppo fatta apposta dove comunque chiediamo al Presidente del Consiglio che ci vengano date le carte. Ora queste carte io personalmente non le ho avute, non ho fatto istanza a differenza di altri, ma perché ritengo che io non debba fare nessuna istanza. Una considerazione etica, morale. In questo momento chi paga gli errori della burocrazia, l'errore della Regione che dopo 15 anni non risponde a una lettera effettuata dal Comune di Modugno? Perché il Comune di Modugno poteva anche sbagliare. Probabilmente la delibera del 99 poteva essere una variante, ma è stata inviata alla Regione e la Regione doveva rispondere, cosa che non ha fatto. Allora adesso che cosa succede? Che i cittadini, cittadini che aspettano un certificato di destinazione urbanistica per vendere un pezzo di terra anche agricolo, stanno pagando. Pagano per colpo della Regione e se si dovesse far passare quest'idea del 95 che ritorna, i cittadini continueranno a pagare. Perché immaginate una signora che ha acquistato una casa, un immobile predisposto per essere soprelevato, non lo potrà soprelevare. La spaccatura all'interno della maggioranza coinvolge anche altri consiglieri che solidarizzano con adesso Modugno. Sono Giancarlo Rannini, Massimo Angiuli, Pietro De Benedictis, Vito Libero, che chiedono al Sindaco di rivedere la questione urbanistica, evitando così il blocco del sistema. L'opposizione invece non si è ancora espressa. I riflettori sono puntati sul comizio che il Sindaco Magrone terrà lunedì ad un anno dalla vittoria. Giovedì invece è prevista una seduta monotematica del Consiglio Comunale, proprio sull'urbanistica. Resta l'incognita dell'orario. Alle 18, quindi in concomitanza con la partita della nazionale e mondiale del Brasile, o slitta alle 20?